In Calabria esiste un luogo dove l'odontoiatria diventa eccellenza. Il Centro Odontoiatrico Tomaino, a Satriano Marina, provincia di Catanzaro, aperto tutti i giorni con orario continuo dalle ore 8 alle 20 e il sabato fino alle 16. Il centro dispone di 14 unità operative, di cui una esclusivamente dedicata alla chirurgia ed implantologia orale, e dispone della presenza di un medico anestesista e rianimatore in sede per il trattamento di pazienti cardiopatici, diabetici allergici, nonché della possibilità per i pazienti odontofobici di sottoporsi alla terapia odontoiatrica in sedazione cosciente. Inoltre, presso il Centro Odontoiatrico Tomaino è allestito un reparto esclusivamente dedicato alla odontoiatria pediatrica per il trattamento dei piccoli pazienti. Centro Odontoiatrico Tomaino, a Satriano Marina, Viale Europa, lungo la strada statale 182. Numero unico per info e prenotazioni 0967 52 14 99 www.studiodentisticotomaino.com